Salve a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi vi volevo far vedere le nuovissime capuchins però io ho preso questa qua lilla allora, apriamola questa è la tazzina con appunto non so come si chiama vabbè, questa cosa per poggiarla il manico ed è fatto in questo modo argento con tutte queste bellissime decorazioni con lei comprendeva questa bellissima tazzina d'argento metti a fuoco con queste altre decorazioni con i ricini puntini e la base, ecco come si chiama la base a forma di fiorellino ok, ora vi farò vedere la mia capuchins eccola qua un attimo che alziamo un po' il telefono ho messo lo sfondo come nello scorso video eccola qua ha il carre qua un po' più corto e qua la ciocca che scende lunga e questa treccina dietro è fatta in questo modo poi ha la magliettina argento con tutte le varie decorazioni e il fiorellino con la manichetta che lega il vestito poi la gonna è sempre di silicone però l'odore non mi piace per niente e fucsia qua sempre le sue solite decorazioni e dietro è fatta in questo modo le braccia sono sono molto snodate come vedete posso andare su, giù, dietro e la testa invece si può girare di lato oppure il corpo si può girare come vedete si stacca anche e la testa invece la può girare anche dietro quindi diciamo che è molto snodata e ora la rimettiamo nella sua casetta va a dormire però per rimetterla vi consiglio di mettere le braccia su in questo modo ecco fatto vedete perché se la mettete giù poi dopo non si riesce a chiudere bene chiediamola e si spezza come vedete però non si rompe è proprio fatta in questo modo sono snodate come vedete c'è la forma voi la incastrate per benino e dopo lo chiudete però lo chiuderò in questo modo braccia su vabbè se lo metto su dietro che ho diti stavolta no, metto la faccia in questo modo ok, ora ti devi chiudere bambolina ecco che sta chiudendo chiuditi scusate i signori di sopra ecco qua si è chiusa e niente vi consiglio tantissimo questo è Capotins spero vi sia piaciuta la mia Capotins se è così mettete un bel like e iscrivetevi al canale ciao ragazzi al prossimo video ciao